Ciao a tutti, quest'oggi parliamo di un tema più leggero del solito, tanto per cambiare, le fratellanze oscure, che in realtà non è un tema leggero per niente, però è un tema assai attuale rispetto al periodo storico che stiamo vivendo, o meglio, non più attuale rispetto ad altri periodi, ma particolarmente evidente nel periodo storico, in realtà si tratta di fenomeni le cui radici risalgono a secoli e anzi a millenni fa. Andiamo a leggere un post che ho pubblicato nei miei canali social e poi a commentarlo nel dettaglio, il post è un po' più lungo del solito, probabilmente lo sarà anche il commento. Oggi parliamo delle logge oscure, un tema molto attuale e particolarmente evidente in questo periodo storico. Lo facciamo partendo da una citazione tratta da un testo a che ho letto di recente che considero assai valido sull'argomento, il mistero della situazione internazionale di Fausto Carotenuta. I partecipanti alle fratellanze oscure sono stati accuratamente selezionati nei livelli inferiori, in genere quando erano giovani, tenendo conto della provenienza familiare o di particolari doti di intelligenza, e certamente di una passata evoluzione nella quale le forze del cuore sono rimaste abbastanza inattive. I giovani scelti vengono sottoposti a una serie di riti che producono vere e proprie alterazioni nella personalità, viene spenta ulteriormente la forza dell'amore e vengono accentuate particolari doti dell'intelligenza o dell'obbedienza. Questi giovani vengono poi lanciati in carriere fulminanti di frequente, ma non sempre come consiglieri più o meno occulti di qualche eminente personalità. Più raramente in prima persona nei grandissimi incarichi. Il lavoro rituale fatto su di loro lascia spesso tracce esteriori visibili, negli occhi dotati di una luce inquietante o spenti. Gli occhi specchio dell'anela. Qua finisce la citazione. Il primo elemento evidenzia il criterio di selezione di coloro che poi vengono inseriti in certi contesti di grande importanza, politica, finanza, organizzazioni internazionali. Vengono scelti per il connubio tra l'intelligenza cinica e l'assenza di compassione, oltre che per la propensione a obbedire ciecamente. Secondo elemento. Tali fattori vengono anteriormente acuiti attraverso una certa ritualistica che da un lato modifica la psiche degli individui, nella direzione desiderata dei capi oscuri, e dall'altro li compromette e li rende ricattabili, se servisse. L'ultimo è un elemento che ho evidenziato io stesso svariate volte. Per sapere cosa c'è dietro una persona, ossia a quale livello di coscienza si muove in essa, basta contemplare i suoi occhi. La sua anima e il suo livello evolutivo vi si affacceranno inevitabilmente. È il motivo per cui tanti personaggi famosi, anche comuni, ma soprattutto famosi importanti nei circoli della politica e della finanza, hanno degli occhi freddi, vitri, dell'intelligenza algida e priva di calore. Sono sicuro che non vi sarà difficile riconoscere, verificare questo concetto e applicarlo a qualche personaggio. Questa è la situazione attuale del pianeta Terra, ma la vibrazione planetaria, e dunque umana, sta aumentando, per cui non sarà così ancora a lungo. Il quanto a lungo dipende anche da noi. Abbiamo il potere di abbreviare o di allungare i tempi. L'avevo detto, è un post un po' lungo ed è un post che ha molti elementi, non solamente i tre che ho evidenziato io stesso nel post. Andiamo a parlare un poco dell'argomento per avere quantomeno una visione generale. Intanto esistono delle logio scure, che non sono, diciamo, i contesti più o meno noti della finanza o dell'economia, della comunicazione, del giornalismo, ormai abbastanza noti. Non so, il Club Binderberg, il Club di Roma, la Commissione Trilaterale, via discorrendo, il Club di Budapest, ce ne sono tanti. Ognuno assegnato a una certa zona del mondo o, all'interno della medesima area geografica, a una determinata area, come dire, umana, conoscitiva, comunicativa, a una certa area di intervento. A volte sono le comunicazioni, a volte l'intrattenimento, il giornalismo, a volte l'aspetto più prettamente economico-finanziario, e così via. Le logge oscure di cui si sta parlando in realtà possiedono un livello sopraelevato per importanza, e sono le dirette dipendenze dei cosiddetti madinieri e dei loro discepoli. Si tratta di logge che attualmente non sono ancora conosciute, o magari circola qualcosa, ma davvero molto poco, perché si tratta di strutture assolutamente segrete. E se pensate che ci sono serviti decenni interi per rendere anche solo discretamente noti quei circoli che ho citato prima, che comunque sono pubblici, o meglio, sono privati per invito, ma sono pubblici almeno per conoscenza, perché comunque si conoscono. Pensate alle logge segrete. All'interno di queste logge vengono scelti ed educati dei giovani, particolarmente predisposti al servizio oscuro, in quanto dotati di una viva intelligenza, ma viva, intesa non dal punto di vista del calore, ma dal punto di vista, diciamo, della freddezza. Si tratta di un'intelligenza di tipo algido, a sangue freddo, non a sangue caldo. Questo tipo di intelligenza fredda e cinica è enormemente associata a una mancanza di compassione. Si tratta dunque di personaggi molto ben disposti a eseguire ordini ciecamente, senza nemmeno chiedersi il perché, e a volte senza nemmeno sapere esattamente cosa stanno facendo, proprio perché dai piani alti, a volte viene rivelato qual è il piano generale e a volte no. Infatti una delle componenti ricercate in questo tipo di personaggi è per l'appunto la cecità, cioè l'aderenza stretta agli ordini, in cambio di un vantaggio personale. A seconda, quindi ricchezza, potere, fama, a seconda di quanto questi personaggi sono inseriti nell'elogio scure, sanno o non sanno cosa c'è dietro al piano, cioè qual è il piano vero e proprio, quindi cosa c'è dietro ai singoli interventi che sono loro richiesti e che naturalmente nello scenario pubblico figureranno con stili, ottiche e concetti molto differenti. normalmente sono questi interventi, questi rimedi, vengono fatti passare per cose buone e vengono ammantati anche di ideali positivi e nobili, tipo l'inclusività, la non discriminazione, ma abbiamo visto dove porta la loro non discriminazione. Ecco, questo è un esempio del fatto che una volta che si è sviluppato un certo sguardo il loro modo saggente diventa chiaro, anzi si può persino prevedere, diviene persino facile prevedere dove andranno a parare, perché si è sviluppato il mosaico generale e quindi le loro azioni diventano persino prevedibili, perché si sa quello che c'è dietro e quali sono i loro scopi. Molto spesso questi personaggi, i giovani che vengono scelti per questo tipo di carriere, fanno parte di certe famiglie, perché un certo sangue, un certo DNA già corrotto a livello, diciamo, di male e di energia bassa, oscura, di vibrazione bassa, li rende predisposti per un certo tipo di attività che sia l'attività pubblica, quindi quello che fanno a livello di informazione, governo, finanza e così via, ma li rende predisposti anche a un certo tipo di ritualistica a cui sono sottoposti per diminuire ulteriormente, casomai ci sia rimasto qualcosa, la componente di tipo empatico, compassionevole che viene proprio spazzata via. Questi rituali li collegano ancora di più alle forze oscure, già lo sono in partenza perché sono frutto di forze oscure, cioè di genitori che a loro volta fanno parte di certe logge che hanno incarnato un certo tipo di energia. Come diceva Osho, Osho diceva che le nascite di vari Cristo, Mahavira, Buddha, non sono state casuali perché sono stati il frutto dell'unione di determinate anime molto evolute. Questa è la situazione esattamente opposta, si uniscono personaggi della vibrazione molto bassa e generano una progenie altrettanto bassa che è molto ben disposta, non normalmente ben disposta, cioè facilmente utilizzabile in questo tipo di attività, sia a livello pubblico esterno, sia a livello di ritualistica interna alle logge oscure. Tale ritualistica li rende ancora più bassi come fibrazione e li rende anche ricattabili, casomai si rendesse necessario in caso di un'eventuale futura crisi di coscienza di questi personaggi che è rara, qualcosa c'è ma è comunque molto rara. Quindi sia la provenienza familiare, sia la loro molto ben attenta selezione, sia il lavoro ritualistico sulla psiche rende determinati giovani, perché si tratta di lavori fatti fin da piccoli, fin da quando sono bambini o ragazzi, assai adatti a certe dinamiche. Si tratta di personaggi che vengono lanciati in carriere strepitose, fulminanti, come se avessero chissà quali doti individuali. Ne hanno di doti, scure, ma ne hanno, non sto dicendo che non ne abbiano. La cosa curiosa, almeno per chi si volesse porre la questione, sarebbe che questi personaggi sono praticamente osannati da ogni parte, in maniera sospetta, perché è difficile che si abbia accordo unilaterale e totale e universale, non unilaterale, universale, su una determinata questione. È molto difficile, eppure nei mezzi di comunicazione occidentali, e l'Italia ne è un esempio fulgido purtroppo, c'è questo tipo di pensiero unico, che è possibile solamente quando il datore di lavoro è lo stesso, e quindi l'agenda che viene seguita dai vari mass media, giornali e televisioni, è identica. Questa è l'unica spiegazione possibile. Infatti i padroni di tali mezzi di comunicazione sono gli stessi personaggi che fanno parte delle logi in questione, per chi ancora non lo sapesse. Ecco il motivo per cui, per esempio, hanno avuto carriere fulminanti anche da giovanissimi, per esempio, personaggi come certi primi ministri che stanno scappando dai camionisti, anzi per non fare un nome, o come certi altri primi ministri che fanno parte del gota della finanza e su cui c'è stata una qualche miracolosa convergenza armonica per cui tutti i giornalisti erano d'accordo, tutti i politici erano d'accordo, persino il Papa era d'accordo, almeno quella creatura che si spaccia per Papa. Da cosa si riconoscono questi personaggi? Dall'appartenenza a certe famiglie, a certi gruppi, dall'agenda che portano avanti, che è sempre un'agenda anti risveglio e anti umanità, non è legata all'aspetto economico. L'aspetto economico di sfruttamento dell'umanità, del rendere l'essere umano un consumatore inconsapevole, è solamente un dettaglio. Queste persone, questi gruppi hanno fondi illimitati, letteralmente illimitati, anche perché possiedono le banche, che non sono nazionali, ma sono private. I pochi stati nel mondo che non hanno ancora una banca privata di marca Rothschild e soci, guarda caso, sono i cosiddetti stati canaglia del mondo occidentale e degli Stati Uniti in particolare. Alcuni sono stati già invasi e, come dire, distrutti. Libia, Afghanistan. Altri resistono ancora, quella del Nord, Siria, sono rimasti tra i pochi a non avere una banca privata di quella matrice. E ora sapete anche come mai certi stati sono stati invasi, peraltro con scuse ridicole che poi si sono rivelate infondate come le armi di distruzione di massa. Come peraltro se avere armi di distruzione di massa fosse vietato, allora dovremmo distruggere tutti gli stati occidentali, a cominciare da certuni. Italia compresa, perché anche l'Italia ha un discreto esercito, uno dei più forti al mondo, non tra i primissimi, ma comunque tra i più forti. Mi pare fosse, tempo fa avevo visto una classifica, mi pare fosse classificato tipo al decimo, undicesimo posto. Con quali variabili non lo so, perché io non sono neomilitare, non esperto di armi di massa o non di massa, però era in quella posizione di classifica. Questi personaggi si riconoscono anche dagli occhi, molto banalmente. Li vedete, c'è un'intelligenza fredda, distante, cinica, sono disposti a tutto, non vedono l'umanità come una serie di creature senzienti con dei diritti. Guardano l'umanità, la massa umana, così come l'umanità media, così come l'essere umano comune guarda gli animali, cioè degli oggetti da sfruttare. E peraltro questo ci dice molto a livello carmico, ci dice moltissimo a livello carmico. Finché noi non smetteremo di sfruttare, di trattare gli animali come oggetti, saremo trattati parimenti come oggetti, da certe logge di potere. Ed è giusto che sia così se ci pensate. C'è una perfezione cosmica in questo come c'è sempre. Se li guardate ben bene negli occhi, questo potrebbe valere anche per i vostri amici, tra l'altro, anche se non fanno parte delle logge oscure, dovreste vedere a che punto sta la loro anima, anche se in realtà la visione esteriore va allenata. Se avete uno sguardo allenato, un certo tipo di occhio e quindi di anima che sta dietro lo riconoscete all'istante. Se lo sguardo non è allenato potrebbe risultarvi un po' più difficile. A quel punto guardate che agenda portano avanti. Se portano avanti un'agenda di distruzione, di schiavitù, di controllo dell'umanità, allora fanno parte di quei gruppi. Che lo sappiano meno. Alcuni non lo sanno nemmeno che piani ci sono dietro, questi sono i cosiddetti utili idioti. Altri lo sanno e fanno parte, diciamo, della gerarchia a un qualche livello. Quindi i maghi neri, i loro discepoli, poi abbiamo le varie logge più o meno segrete e poi abbiamo gli utili idioti che il sistema utilizza per esempio per parlare in tv e per essere odiati dal popolo, casomai le cose si mettessero in un certo modo. bene, abbiamo parlato parecchio, credo di aver ridato un quadro generale. La situazione purtroppo è questa, ma bisogna prenderne atto, quindi bisogna prenderne atto del fatto che è l'essere umano che ha il coltello della parte del manico, perché è la vibrazione della collettività umana che decide quello che succede. È per quello che loro influenzano alla massa con i mezzi di comunicazione di massa. Se avessero un potere assoluto non si preoccuperebbero né di notificare le cose, né di convincere la massa che bisogna andare in quella direzione. Se avessero un potere assoluto non avrebbero bisogno di agire a livello di propaganda e di influenzamento collettivo. Se la coscienza umana a livello di massa critica si sviluppasse ulteriormente, questo tipo di potere oscuro e nefasto non potrebbe esistere. Cioè sarebbe di esistere, dovrebbe spostarsi in zone del mondo nelle quali la consapevolezza collettiva fosse ancora bassa. Infatti le varie zone del mondo hanno livelli di libertà, di bellezza, di fratellanza, di possibilità, anche di libertà di stampa molto banalmente più o meno alti, a seconda di cosa, del livello di coscienza interiore alle persone, a livello di massa, il che si può anche riscrivere come livello di sovranità interiore. La sovranità interiore determina la sovranità esteriore. Come scrissi in un articolo, credo otto anni fa, sei, setto, otto anni non ricordo bene, molto tempo fa ormai. Bene, vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto, vi consiglio, caso mai apprezzate il mio lavoro, di iscrivervi sia alla pagina, al canale YouTube, ma soprattutto alla mia newsletter, alla mia mailing list, che è il modo più sicuro per rimanere in contatto col mio lavoro. Sappiamo quei social che sono di proprietà delle medesime logge di cui ho detto, almeno quelli più importanti, sappiamo come va con i social. Vi ringrazio per l'attenzione, auguro buone cose a tutti, ci rivediamo presto.